Siamo a Santuario della Tenarità, che è molto importante per la comunità di Casnigo, importante dal punto di vista artistico, perché contiene opere sicuramente molto belle dal punto di vista spirituale e artistico, importante perché è anche un centro di riferimento, di ritrovo, di aggregazione, che tocca un po' il paese di Casnigo e la gente che lo compone. Quest'anno in modo particolare, come gli anni, viene fatta la festa qui in Santuario in occasione della Solanità della Santissima Tenarità, una festa che ricorda alcune tradizioni antiche, in modo particolare la ceca e sciola, il fatto che i contadini in passato utilizzavano questo cibo e questa bevanda per fermarsi ristorandosi in questo posto e in occasione del fatto che stiamo ricostruendo un laboratorio, anche un gruppo di giovani si è messo a disposizione per creare due sedate gastronomiche in cui possono vendere qualcosa, in questo caso delle porchette cotte da loro, che va poi a aiutare il finanziamento per il nuovo laboratorio. Queste sono manifestazioni, diciamo, di aggregazione che si mettono all'interno di quello che il Santuario rappresenta abitualmente, un punto fermo all'interno della comunità, uno spazio in cui la gente si ritrova e in cui passa, perché oltre ad essere un bel panorama, come dicevo, è anche qualcosa che porta in sé molte parti di storie antiche, di arte e un patrimonio che per Casnigo è molto importante. Sabato 29, domenica 30 maggio, presso il Santuario della Santissima Trinità, è stata organizzata la festa di Santo Spirito, questo dall'Associazione Santo Spirito, col comune di Casnigo e il gruppo Giovani dell'Oratorio. La manifestazione prevede il sabato sera la possibilità di degustare presso il ristorante la porchetta, polenta, strinù e tutto innaffiato dai vini della Val Calepio. Inoltre 20 e 30 avremo possibilità di sentire musica dal vivo, mentre per quanto riguarda domenica i festeggiamenti cominceranno ben dalle ore 14. L'Associazione Santo Spirito ha curato le visite guidate all'interno del Santuario, avremo la possibilità di assistere a una mossa fotografica all'esterno e ovviamente alle ore 16 avremo la nostra classica merenda con la cecchisciola. Il ristorante riaprirà all'intorno alle 19 e 30 con lo stesso menù del sabato, quindi porchetta, polenta, strinù e soprattutto i vini della Val Calepio, mentre il tutto si concluderà alle 20 e 30 con il concerto delle voci coro-orobiche. Vi aspettiamo numerosi!